Ha suscitato molta rabbia nei cittadini di Agropoli quello che è successo al ragazzino di 11 anni davanti l'uscita di scuola alcuni giorni fa. Una situazione che sta creando sdegno e paura nelle persone. I due noti tossicodipendenti che trascorrono la maggior parte del tempo presso l'ex campo sportivo Landolfi a quanto pare non hanno importunato solo un bambino, ma nella giornata di ieri avrebbero bloccato un altro ragazzo di 13 anni che stava rientrando a casa dopo la scuola. Il metodo è sempre lo stesso, cercano denaro e se non gli viene dato minacciano verbalmente e intimoriscono la vittima. Purtroppo i cittadini sono esasperati da questa situazione, c'è chi addirittura non parcheggia più presso l'ex Landolfi per timore di incontrarli ed avere richieste di denaro. In tanti si sono rivolti alle forze dell'ordine che a quanto pare ancora non hanno preso una chiara posizione in merito. I due un po' di tempo fa erano gli abitanti dei bagni della stazione di Agropoli, dichiara a un cittadino. Ora si sono totalmente accampati sulla copertura del tetto della fornace dove dormono, bivaccano e accendono fuochi. È stato necessario chiudere con del tavolato tutte le aperture comunicanti con la parte interna della fornace. Il vano scala interno lo utilizzavano come discarica di rifiuti e come latrina, diffondendo nella fornace odori in ausi abbondi. Ho segnalato il caso più volte al comando della Polizia Municipale e alla caserma dei Carabinieri di Agropoli, ma ancora non hanno provveduto allo sgombero dei due malviventi. A quanto pare i Carabinieri da qualche mese hanno fatto richiesta all'ufficio anticrimine della prefettura di Salerno per ottenere un foglio di via, in quanto i due risultano pluri pregiudicati. La situazione, sottolinea l'uomo, a questo punto dovrebbe risolverla direttamente il sindaco con un'apposita ordinanza sollecitando i servizi sociali a farsi carico del caso in questione.